A causa delle restrizioni dovute al covid, le avventure si possono svolgere solo vicino casa, per cui Michelangelo e io oggi siamo alla colonia agricola di Vascondi Carbonera, dove ci sono un ristorantino, un mercatino biologico e tanti animali da vedere. Non pensavo che qui ci fossero i pesciolini, ok? Andiamo a tagliare i bambini. Caprette! Le capre che pasteggiano a radicchio rosso, sono delle capre raffinate. Raggiù che cosa sono? Altri capre o un mese? L'ho aggiungato. Ok, 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 ok. Questa è la mia oca? Anche le oca mangiano radicchio. Stanno soffiando, sono un po' radicchio. Direi di andarsene? Questi che cosa sono le altre oca? Anatre canadesi dovrebbero essere queste. La seconda è la mia oca. Ciao, signor Gallo. Gallo! Ciao! Gallina, dal l'icolo! Allora, guarda! Ho bevito l'acqua di pozzanghero. Guarda quell'altra! Che carino! E quelli che sentono in caro... Fatto! Ecco, questa è la parte bene. Vabbè, andiamo. Quello dopo lo metti su, dai che manca poco. Vabbè, allora si lascia, vabbè, vai a farlo? Che jernamente cerca inima. eligible legal зар luz del celui di Dore.